Ciao, sono Anna, Anna Pallocchia, sto per raccontarti la maxistoria di come la mia vita ha cambiata, capa volta sotto sopra sia finita. Clay, è stato bello parlare, ciao. Ehi Clay, Sass, perché no? Prima era tutto meglio. Allora, se ti chiedono se è burro vero, cosa dici? Che è un prodotto a base di spazio. Wow. Quando sono nato, sono nato come chiedere a tan solo come sia lo spurro. Papà, ti ricordi di Clay? Ti ammazza. È arrivato Clay! L'ultima festa in cui ho visto Clay, ti faceva di eroina. Ah, forza, un altro giro. Clay, che cosa bevi? Ehm, Sprite. Oh mio Dio, ti dò una da Sony. Io mi diverto, sul serio. Woof. Oh, you touch my tra-la-la. E sono gay. Dai, coniglietta. Un magico come me ti manca. Mmm. Ma come fai a mangiarli? La sporra. È la cosa più buona e dolce del mondo. Oh, you touch my tra-la-la. Quindi, potrei darti il mio numero dei codici di lancio di testate nucleari? Ragazzi, cellulare! Guardate che ve li ritiro. Ultimo avvertimento. Sì, Sherry? Grazie. E poi... Gira la cassetta. Non prendo più questa roba da due anni. Vado, vado a arrivare presto. Per voi e per gli amici, tassoni. Anche gli altri sapranno di te. Se non lo sanno già. I'm Mr. Meeseeks! Look at me! Potremmo... Farci Patrick oggi. Un panino? Anna? Lei è Anna. Jessica, lei è Jessica. Jessica. Cos'è c'è? Per te che smita porto poi. Ma cosa dici? Non capisco. Sì, lei è K. Pantisto. Qualcosa sa di Jessica. Ma sei impazzito? Cos'è raffigurato nel quadro che vedi appeso a quella parete? Vorrei sparare da tuo padre. Mio padre romperebbe. Puttana. Ma che? Ma che cos'è questo strano odore? Purtroppo sono sicuro che si tratta di marijuana. Guarda da questa parte. Gloria, gloria, gloria all'epnorospo.